Si raccusa Paolo vive lunedì settina al tribunale alle 20.30 il ricordo di Paolo Borsellino. Lunedì prossimo 19 luglio dalle 20.30 alle 20.30 verrà ricordato il magistrato Paolo Borsellino in occasione del 29esimo anniversario della sua Barbara uccisione per mano mafiosa. Ancora vive il ricordo di quelle immagini strazianti che rimbalzarono su tutte le televisioni e giornali. Gli italiani tutti si strinsero attorno ai parenti delle vittime e lo Stato reagì con fermezza. Mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri. Così aveva confidato in un'intervista il giudice assassinato. Paolo Borsellino oggi vive perché vivono gli ideali di giustizia, il coraggio con cui lottò la mafia sapendo che perciò avrebbe perso la vita, l'amore per l'Italia, la verità e il disprezzo per la violenza e la corruzione morale. La sua morte ha risvegliato le coscienze e inasprito la lotta alla criminalità organizzata. Per questo Paolo vive, dice Paolo Cavallaro, responsabile per la provincia di Siracusa e dell'associazione culturale Italia Avvenire. A Dolora prosegue che a distanza di 29 anni non si sia fatta ancora piena luce su quello che per molti aspetti è diventato uno dei tanti misteri d'Italia. I partecipanti saranno muniti di mascherine e osserveranno le distanze previste in materia anti-Covid. La manifestazione sarà statica sul marciapiede vicino all'ingresso del tribunale, prospicente alla via pubblica. I cittadini sono invitati a partecipare nel rispetto delle normative anti-Covid.